Buongiorno amici. Vi ho portato qua a vedere la madonna della strada, poi mi serve un po' d'acqua per la macchina, venite con me. Allora questa qua è la madonna della strada, così chiamata perché sta qua in questa strada in mezzo al bosco. E' tutto bosco qua, non passa quasi mai nessuno, solo qualche macchina ogni tanto passa di là e si fermano qua, fanno una piccola preghiera, un po' di pausa. Questa madonna è del 1900 e qualcosa, il 72 è stata ristrutturata, riparata, rinnovata. Bella, no? Qui c'è un piccolo cassettino, si può mettere qualche cildesimo, qualche cosa dentro, no? E qui è la preghiera della madonna. Io già ce l'ho in macchina, perciò la rimango qua, già ce l'ho. Venite con me, vi porto a vedere dove si prende un po' d'acqua. Qui si può sedere, fare un piccolo picnic, no? mangiare qualcosa o bersi un caffè. E qua c'è quest'acqua, che viene dalla montagna, da sopra, molto montagna. Acqua sorgente, una sorgente praticamente. Però non si beve, non è acqua potabile. Capito? Io la prendo soltanto perché mi serve ogni tanto per la macchina, per i tergicristalli, insomma. C'è scritto anche là. Vieni qua. Vediamo la targhetta, non si vede bene. C'è il drink vasa, cioè non è acqua potabile, non si beve questa qua. E' un posto di ricreamento, così diciamo che sono il bidone dell'immontizia. E questa è la madonna, vedi? Vieni con me. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni? Vieni qua. Ok, amici. Ci vediamo. Ciao. 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 Ciao.